Bene signori, eccoci qua, bentrovati a quest'altra ennesima diretta del giovedì sera qui sulla pagina fan e anche sul gruppo tra poco di Guida Fitness Vincente, bentrovati come tutte le ogni sante volte del giovedì sera. Eccoci qua, quest'altra bellissima e veramente importantissima live e oggi tratteremo argomenti molto interessanti legati appunto al come strutturare, impostare, gestire, modificare una fase di massa pulita, lean bulk in inglese, quindi come costruire muscolo senza ingrassare o meglio minimizzando quelle che sono le inevitabili anche accumuli di massa grassa per forza di cose che avrete durante una fase di massa perché ovviamente nessuno ha quella ripartizione di calorie nutrienti che vadano solo verso la parte dell'ignocida del muscolo ma anche purtroppo un minimo anche nella parte della depurgita della massa grassa e quindi questo è quello che vedremo appunto sul come minimizzare il fat gain, quindi la massa grassa in accumulo in una fase di massa che appunto è inevitabile avere. Quindi come costruire muscolo senza ingrassare o comunque minimizzando i danni della massa. Quindi questo è l'argomento di oggi, ora attendiamo che qualcuno si connette in questa live, intanto la condivido sul gruppo come sempre, così che anche quelli del gruppo possono vederla in contemporanea come ogni giovedì sera. Allora, fatemi condividere. Vedo Claudio Cornetti, figlio Claudione, quanto tempo? Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Come va la quarantena per quello che può andare, diciamo? Tutto bene? Fammi sapere un po' come stai, tutto bene? Se ti stai continuando ad allenare anche in casa, in quarantena, corpo libero o con quei pochi materiali che hai o comunque quello che sia in casa. Mentre io intanto condivido sul gruppo la live. Attendiamo, attendiamo che qualcun altro si connetta. Arriviamo a un bel numero così che poi inizio a parlare e vedremo un po' di belle cose che tra poco vi dirò in anteprima, mentre che gli altri arrivino, che si connettono anche loro qui sulla pagina Fano, anche nel gruppo quelli che sono. Questa live poi la ritroverete anche in YouTube tra qualche giorno, un settimana, poi dipende un po', perché comunque ho tantissimi altri video da pubblicare su YouTube, che è aperto, vi ricordo, da pochissimo, quindi sarà un 3-4 giorni. Allora si è tutto bene, sto imbiancando e faccio i pesi nel box, 2 manubri da 5 kg l'uno. Sì no, manubri vanno benissimo, poi ovviamente anche lì il peso ovviamente è molto molto inferiore al rispetto al normale, quindi si trovano appunto delle tecniche di allenamento che più verteranno verso il cedimento muscolare, più intensità, un passo più brevi, super slow e anche altre cose che ho trovato già in altri video, altre live in passato, poco tempo fa, appunto per occasione del come allenarsi con coronavirus, in quarantena, con poco o senza attrezzi. Questa è una live che ho fatto anche qualche settimana fa, mi sembra 3 settimane fa, quindi è su YouTube, quindi andate a vedere qua su YouTube. Faccio 3 serie da 30-40 ripetizioni, dato che il peso è poco. Sì, allora 30-40 colpi è tantissimo come colpi, purtroppo con pesi così risori va benissimo. Cosa che posso consigliarti è fai le ripetizioni più lente che puoi, quindi vai in super slow così che a parete di colpi l'intensità percepita è più impattante e stimolante. Abbassa le pause di recupero, sicuramente abbassare le pause è un ottimo modo per aumentare lo stimolo percepito per il muscolo. E se è, vai a fare una super serie di muscolo antagonista, agonista, quindi se lo fai per, hai detto, per esempio bicipiti, fallo in super serie per ticipiti così che condensi più lavoro possibile in meno tempo. E lì è anche una forma quella di progressi overload, quindi tecniche inutili che possono appunto essere utili in questi periodi un po' particolari, estremi e senza precedenti purtroppo. Ora come ho lasciato da trovare appunto delle scappatoie, delle strategie per far fronte un po' a questa mancanza di pesi, di carichi, di macchine, di attrezzi e così via. Comunque, non so se avete letto, ma oggi l'argomento verte sul come costruire un muscolo, quindi come impostare una fase di massa corretta in modo scientifico e anche ovviamente personalizzato. Faremo oggi anche esempi pratici su sia allenamento, alimentazione, poi tra poco vi farò anche una scaletta di ciò che affronteremo come argomenti in questa live di oggi, che sarà veramente molto densa, come sempre, di valore. Ora fatemi andare qua a condiviarla sul gruppo. Partiamo un po' con le presentazioni, con la scaletta e poi iniziamo alla grande, in attesa che anche altri si connettano. Quindi ragazzi, ci siamo? Tutti pronti? Fatemi sapere un po' se ci siete. Ok, cicletta un'ora al giorno. Sì, il cardio è benissimo. Ecco, questa è anche un'ottima occasione per andare a, in primis, sperimentare anche un po' di movimenti nuovi che in palestra non facevamo, quindi diventare più esperti in esercizi come le trazioni schia la pull a bar, in piegamenti, esavorati con lo zaino addosso, cose così. E essendo che questo è anche un periodo in cui siamo più passivi, con una stabilità molto meno attiva e tutto, conviene appunto usare ciclette per l'ansia sia in casa, oppure fare delle piccole e brevi camminate, comunque anche all'aperto per quel che è concesso da soli, senza fare un assemblamento e cose varie, e pur che si rientri, come dice la legge, mi sembra, nei 200 metri dall'abitazione. Quindi gli, mi raccomando, fate più passi al giorno, in modo appunto da compensare questa limitazione territoriale di libertà, praticamente, cose imbarazzanti. Però sì, ciclette va benissimo. Ecco, enfasi su attività di muscolazione, quindi esercizi muscolari, che siano con manubri, con corpo libero, piegamenti, trazioni, scuota, fondi bulgari, che più o meno mette appunto con le tecniche che prima ho detto, che prima ho detto un po' a tutti i ragazzi, super slow, abbassare pause e anche altre cose. Allora, no, per quanto riguarda invece il come affrontare questa periodo di quarantena in casa, per quanto riguarda l'allenamento, ho fatto una live apposta, che ora è anche su YouTube, perché non lo sa, ho aperto ufficialmente da due settimane, mi sembra, il canale di YouTube, con diversi argomenti, live e altri video che ho fatto, e tra questi video qua c'è anche un video, una live che ho fatto settimane fa qua sul gruppo, legata appunto al coronavirus in quarantena, come fare per allenarsi anche senza attrezzi e cose varie. Bilangere con due casse d'acqua? Eh sì, purtroppo sono queste le cose da fare in questo periodo un po' critico, però ecco, si fa quello che si può, diciamo, si fa quello che si può. Intanto fatemi sapere se ci siete, siete pronti per questa live qua, vedi un po' l'argomento, se ti interessa, stai, se no, prego, dimmi tu vado ad uscire. Cosa devo fare io? Sì, ok. Bene, bene, pronti cari, vedo anche Riccardo, Coni, oh, ciao, grandissimo, come andiamo? Come va l'esercito metabolico? Tutto bene? Non procede bene? Alziamo comunque le calorie di 100 settimane? Come ti ho detto? Fammi sapere un po' un tuo feedback veloce veloce? Che poi vedremo bene a fine settimana durante il check. Ok, intanto condivido qua. Pronti, pronti ragazzi? Adesso arrivo, state lì, calmi, buoni, che tra poco si inizia. Allora, vado a presentarvi, perfetto, live condiviso, ottimo. Bene, bene. Allora, prima cosa, lasciate un un mi piace, vedo anche Gianni, grandissimo, tutto bene? Come andiamo? Lasciate un mi piace a questa live qua, mi piace, e commentate con anche domande che volete che io tratti in questa live, appunto, dedicata a una fase di massa pulita, all'in bulk, senza ingrassare, così che io possa avere degli stimoli anche da parte vostra, appunto, per declinare certi argomenti come voi li desiderate, quindi saprò anche, sarò anche in grado di personalizzare e declinare il tutto, i concetti vari, anche alla vostra personale situazione. Quindi, fatemi domande, commentate, cosa importante, condividete questa live qua, così che anche altri possono vederla, e appunto, beneficiare di questi contenuti veramente molto importanti, di valore. e anche altra cosa, per chi non lo sa ancora, tra poco farò un post apposta, in questi, un post apposta, gioco di parole, in questi giorni, nel quale appunto presenterò ufficialmente il canale YouTube, che è da poco uscito, con diversi video, e quindi popolatelo. Oh, ciao zia, come va? Tutto bene? Quindi, canale YouTube, Guida Fitness Vincente, YouTube, iscrivetevi, campanelle, attivatevi per le notifiche, per essere sempre comunque aggiornati su qualunque altro, contenuto, video, live di valore, e, oh Giulie, come andiamo? Tutto bene? È tutto a posto? Com'è che procede? Bene, bene, bene. Ma comunque sono veramente soddisfatto di Giuliano, perché è uno dei clienti che fa le cose quando gliele dico, nel modo corretto, i film che mi dà puntuali. Molto, molto bravo, bravo Giulie, bravo Giulie. Prendete esempio da Giuliano Bruccoli, attenzione ragazzi. Allora, scaletta velocissima, praticamente oggi costruire il muscolo senza ingrassare, come strutturare, impostare una fase di massa pulita, l'invulc, senza, quindi minimizzando il fat gain. Oggi vedremo principalmente all'inizio i principali miti, errori comuni, che purtroppo sono veramente una volta per tutti da cacciare dalla vostra testa, perché non vanno assolutamente bene. Errori comunque derivanti da i grossi, dalla palestra, che se il secondo se funziona su di me allora su di te funziona. Tanti detti comuni, luoghi comuni, dogmi che ancora oggi non sono sorretti ovviamente da oggettiche scientifiche quindi sono da smontare perché appunto non funzionano o se funzionano è solo per il breve termine e non per il lungo termine ma solo per una piccola parte della popolazione che è o beginner o dopata o congenetiche veramente molto importanti che è solo il 5% di tutti quindi attenzione ragazzi fate un po' attenzione che ascoltateli fuori perché potrebbero essere consigli quelli lì fuori fuorvianti e non adatti alla vostra persona poi intanto lo parli in antistrada scusate che mi calmo mentre parlo se no puoi parlare di questi presunti esperti no competenti di fuori che mi sale la vena qua il cortisolo e niente allora no quindi falsimitri e alcuni praticamente li sviscereremo tutti così che spero che vi escono anche dalla testa così che non commentate più gli stessi errori che fino ad oggi vi hanno appunto impedito di ottimizzare la vostra fase di miglioramento fisico dopodiché andremo a vedere appunto cosa fare quindi cosa fare a livello di alimentazione di allenamento di integrazione come impostare anche nel pratico il vostro piano alimentare quindi calorie nutrienti adatti appunto a una fase di massa fatta bene vedremo appunto dei calcoli nel concreto quella lavagnetta qua come scorsa volta e anche dal punto di vista dell'allenamento quindi come strutturarlo come impostarlo come modularlo modificarlo nel tempo in base appunto alle progressioni che andremo a fare in fase di massa e tante altre belle cose quindi anche legato appunto anche all'integrazione quindi quali integratori prediligere in una fase di massa quali no quali sì ogni quanto come dove perché tutto verrà trattato in modo approfondito in questa live di oggi quindi allora prima di iniziare sorso d'acqua come sempre come mia solita routine ragazzi condividete questa live qua che è importante bella fresca allora oggi sono stanchissimo però sono comunque qui orca di via sono comunque qui a far la live per voi allora iniziamo qua sempre mia scaletta fatta con tutti gli argomenti da trattare belli profondi belli densi di significato allora prima cosa falsi miti legati in primis all'alimentazione allora in fase di massa un detto comune è quello di siamo in massa bisogna costruire nuovo materiale nuovo muscolo e tutto quindi cosa fare devi mangiare di più devi quindi fino a mangiare di più va bene perché comunque devi creare per forza di cose un surplus calore quindi introdurre più calorie di quelle che è il mantenimento calorico il tuo TDD tra poco lo vedremo però ecco tantissimi tendono a estremizzare questo concetto appunto dicendo beh sei in massa quindi mangia più che puoi strafogati ingozzati perché devi mandare più e mandare giù più calorie possibili così che cresci quindi ti dicono mangia più che puoi non sei pasti al giorno belli densi non hai fame mangia di più non hai fame devi sforzarti a mangiare ingurgita così metti più calorie in corpo che saranno appunto per crescere ragazzi i concetti estremizzati la maggior parte delle volte per non dire quasi tutte non va bene quindi è vero che in fase di massa è importante creare un surplus calore quindi mangiare di più un surplus calorico di dopo lo vediamo tendenzialmente per essere puliti fare una massa pulita senza sporcarsi troppo un 10% ma poi tra poco lo vediamo benissimo che non vuol dire andare a mangiare una valangata di cose troppe calorie perché altrimenti il rischio è quello di sporcarti poi ci sono conseguenze gravi nel farlo tendono anche appunto queste conseguenze gravi a ostacolarti il tuo percorso di fase di massa pulita anzi tendono proprio a inibirlo poi tra poco lo vediamo quindi si mangia di più ma con regolazione in un minimo surplus comunque da autoregolare e monitorare il peso corporeo come vale nel tempo e in caso adattare l'introto calorico ma poi tra poco lo vediamo tranquilli quindi il primo errore è falso mito a quello appunto di ingozzarti di strafogarti è un errore che ho fatto anche all'inizio cioè mi dicevano quando dei farmassi allora ingozzati di cibo mangia più che puoi così che vedi che cresci ragazzi non è così quindi si sul plus ma moderato e poi altro errore per quanto riguarda invece l'allenamento in palestra è quello di essendo che devi costruire un nuovo muscolo devi uscire dalla zona di comfort devi andare con la motivazione alla no pain no gain quindi sforzarti più che puoi va bene la motivazione ma ciò che è sbagliato è il fatto di anche qui estremizzare il concetto cioè spaccarti più che puoi in palestra devi proprio drenarti devi sentire il muscolo spaccarsi così che il giorno dopo non cammini più non estremizzare i concetti c'è un modo scientifico metodico nel applicare una programmazione una progressione nel tempo in palestra che non vuol dire spaccarsi ogni volta più che puoi in palestra con i vari esercizi a alta intensità stripping drop set super slow respose cose varie piramidali senza senso quindi ecco evitate il no pain no gain come modo superanti ma va bene come input di motivazione appunto perché ti spinge a dare a dare un maggiore effort ma non come devi spaccarti c'è un modo scientifico di fare le cose che tra poco verso la fine nelle cose da fare vedremo bene nel dettaglio poi altro errore questo è veramente un classico di cui ho fatto anche un video apposta qui su facebook diversi mesi fa in realtà è appunto quello di allora la gente cosa fa distingue fase di massa definizione ok va benissimo però dice una cosa sbagliata cioè in fase di definizione alti colpi meno peso così che ti definisci che non è stronzata l'abbiamo già curato che non è così mentre in fase di massa fai l'opposto cioè più peso per meno colpi facendo magari piramidali tecniche di alta intensità stripping drop set respose cose intense ma di base il fatto il pensiero di solvere peso per fare meno colpi quindi più verso la forza i peratrofi che però non è non è vera questa cosa qua questa distinzione qua a livello di allenamento distinto tra massa e definizione è una stronzata perché perché di base ragazzi ciò che cambia veramente da una fase di massa a una definizione di emagramento quello che è è solo l'apporto calorico e anche lì l'apporto proteico in fase di definizione l'apporto proteico è leggermente superiore a scapito degli altri nutrienti ma comunque sono dettagli che tratteremo in altri video magari però di base ciò che cambia è l'apporto cioè in definizione sei in deficit calorico in fase di massa sei in surplus calorico poi anche lì una piccola cosa da dire appunto che in fase di massa essendo che dai più energia al tuo corpo sei anche in grado di sopportare in palestra un volume maggiore quindi di lavoro come esercizi intensità e cose varie però sono piccolezze e dettagli che vanno a trattarsi in modo personalizzato persona a persona in occasioni private di coaching però di base ciò che determina la fase di massa di definizione è sempre il bilancio energetico in definizione in deficit in fase di massa surplus a livello invece di allenamento non cambia niente anzi non deve cambiare niente se non quella variazione che vi ho detto prima del volume allenante che deve essere appunto modulato in base a quanto sei di introito calorico però piccole cose e deve essere costante l'elemento con sempre maggiore effort perché se tu stupidamente sei in fase di massa ok fai un tot volume allenante tot intensità di carico tot parametri allenanti settati e sono quelli se però in fase di definizione tu vai a variare questi parametri quindi abbassando il volume abbassando l'intensità diminuendo le pause cioè è molto probabile se non fai le cose fatte bene controllate a livello proprio numerico scientifico che darai in fase di definizione essendo che i carichi che sollevi sono inferiori a quelle che in teoria fai in massa andrai sia a perdere peso perché appunto sei in deficit calorico ma essendo che il tuo stimolo allenante in palestra comunque è inferiore appunto a causa del peso che sollevi in modo minore andrai a catabolizzare essendo in deficit anche la massa magra quindi ragazzi sta cosa qua del indefinizione colpi alti abbasso il peso perché devo definirmi buciare di più e in fase di massa abbasso i colpi alzo i pesi non deve esistere o se esiste è solo per certi mesocicli fatti in modo strutturato e con una strategia annuale dietro quindi occhio e parametri allenanti devono essere costanti cosicché tu tra fase di massa e definizione tu mantenga dalla massa alla definizione in fase di magra mantenga preservi la massa magra a scatto di quella grassa quindi il concetto di differenziare fase di massa e definizione anche a livello di allenamento con questo concetto qua dei colpi colpi e peso è da abbandonare ciò che vige tra poco lo vediamo sono i principi di multifrequenza di progressive overload quindi aumentare stimoli parametri allenanti anche in definizione ma soprattutto anche in massa appunto per dare uno stimolo in più sfidante stimolante al corpo per andare a costruire nuovo materiale quindi nuova massa magra e finisce qui poi tra poco lo vediamo bene nel dettaglio altra cosa importante altro falso mito direi ce ne sono tantissimi altri però comunque questi qua sono i principali a livello di integrazione uno dice quando devo far massa devo per forza di cose integrare perché se io non prendo le proteine in polvere allora non divento grosso quindi cosa faccio prendo le proteine in polvere prendo i BCA prendo la creatina prendo la citrullina prendo e altri tantissimi altri integratori che per carità gli integratori a parte che hanno un ruolo molto marginale e superficiale di minore entità rispetto a parametri come allenamento alimentazione e anche altre cose quindi sono sull'ultimo grado di nuova importanza gli integratori e servono solo se si hanno carenza alimentare quindi se tu come ho spiegato anche in tantissime altre occasioni sei in carenza di proteine di omega 3 di altri nutrienti macro micro che siano al che vai a integrare quegli integratori ma non è che sono essenziali non è che se tu con gli integratori se non li prendi ottene un peggiore risultato mentre se li prendi diventi il top di gamma non è quella roba lì l'integratore ecco non fa la differenza va solo a ottimizzare un processo fatto veramente molto bene alla base con i gradini più importanti che sono bilancio energetico macronutrienti allenamento micronutrienti meal timing frequenza dei pasti e poi lì l'ultimo integratore che va appunto a ottimizzare come punta della piramide un lavoro fatto già bene in partenza con questo non voglio dire che proteine in polvere e cdA sono inutili alcuni integratori lo sono sono lì solo per essere venduti e fare soldi e basandosi appunto sull'ignoranza delle persone che lo comprano ok perché se l'integratore lo vende il bodybuilder professionista allora essendo che vedo che lui lo prende allora io che voglio essere come lui lo prendo anch'io geni proprio geni vabbè ma a parte questo integratori vanno bene se si è in carenza e però ecco ci sono non voglio fare tutto il problema però comunque voglio dirvi che di integratori ce ne sono alcuni che consiglio anche io personalmente che in fase di massa possono esservi veramente utili e alla fine li vediamo comunque questi qua che li ho visto fino adesso sono i principali errori falsi miti creduti veri che purtroppo non lo sono e sono veramente da togliere dalla testa perché appunto sono fuorvianti non sono corretti e non vanno bene per la maggior parte della popolazione anzi sono tutti sono proprio alla base sbagliati come fondamenta quindi attenzione ragazzi non fatevi ingannare da certe vicerie che non si basano sulla scienza sull'oggettività scientifica sulla scienza del fitness ma basatevi appunto su persone che parlano con scienza in mano con dati numeri alla mano ok non io sono grosso fai come dico io se no non diventi come me sono veramente stronzate quindi occhio a chi ascoltate ok ora andiamo un po' ad affrontare a vedere bene una volta per tutte il cosa fare quindi come strutturare una fase di massa fatta correttamente efficace scientifica personalizzata a livello di allenamento alimentazione integrazione e tutti gli altri parametri da considerare veramente importanti e ecco come impostarla anche e soprattutto sul come andare a minimizzare il fat game l'accumulo di massa grassa che purtroppo di cose ragazzi avviene in modo inevitabile in qualunque caso anche quelle cose fatte bene correttamente in modo preciso perfetto un minimo di fat gain di massa grassa come accumulo in fase di massa in surplus è inevitabile ma noi cercheremo appunto di minimizzarlo ok ora a livello di alimentazione il primo parametro importantissimo che sta alla base di tutto è quello di impostare il proprio bilancio energetico in un surplus calorico come inizio detto il surplus deve essere minimo minimo nel senso non deve essere troppo piccolo da non generare adattamenti positivi di costruzione di surplus energetico che possa appunto darvi energia per dare di più in palestra ma non deve neanche essere troppo elevato da sporcarvi quindi adattarsi massa aumentare di peso ma purtroppo risultare in un accumulo troppo elevato di massa grassa che noi cerchiamo appunto di minimizzare quindi un corretto surplus se in definizione il nostro deficit può spingersi fino a un 15-20% in deficit in fase di massa non è uguale deve essere un surplus in più rispetto al proprio TDE mantenimento calorico di un 10% e una volta settato andremo poi a automonitorarci il peso corporeo le misure e così via così che vediamo un po' questo surplus quanto ci fa migliorare in che zone ci fa migliorare in che zone ci fa aumentare di peso e ecco cosa importante per quanto riguarda il self-monitoring appunto di monitorarci le misure corporee il peso e cose varie è importante vedere che l'aumento di peso a base settimanale non deve superare anche lì poi dipende da quanto siamo esperti quanto abbiamo esperienza in sala pesi nell'allenamento e così via perché ovviamente uno più è principiante più è un beginner e più può può spingersi a un aumento di peso più importante appunto perché essendo nuovi gli stimoli allenanti può mettere più massa magra rispetto a uno che è più avanzato ovviamente però ecco in media per un intermedio la cosa importante da sapere è quella appunto di qua vedo un po' dei commenti perfetto Giorno Tastura perfetto grandissimo molto bene dicevo cosa importante al self-monitoring appunto l'aumento di peso settimanale deve essere più o meno di un ecco direi non oltre i 0,2 contate sul lungo periodo sul mese attenzione a non andare oltre i 0,7 kg ok 0,8 kg quindi stare sempre in un range di poco meno di un chilo al mese nella settimana 0,1 0,2 kg a settimana però anche lì vi invito appunto ad avere una visione più a lungo termine e considerare il mese cioè se voi una settimana perdete peso o lo mantenete uguale non è che state peggiorando o non vedendo risultati vedete che le performance in palestra o l'allenamento migliorano va benissimo così ma attenzione ecco sul mese stare intorno a 1,06 0,7 kg massimo di aumento di peso se si va oltre quindi verso il chilo il chilo e mezzo al mese in più attenzione che sì magari sicuramente hai messo su un po' di massa magra ma al contempo essendo che sei oltre il range di un chilo al mese per esempio avrei messo anche una sicuramente una dose di massa grassa addosso allora attenzione che sicuramente col surplus calorico creato all'inizio di una fase di massa sicuramente metterai su molto peso anche velocemente ma questo non è grasso non è muscolo all'inizio si mette su prettamente glicogeno carboidrati in più e acqua ok che va a fare una buona parte di un peso di un aumento di peso iniziale dopodiché si stabilizzerà appunto perché se tu arrivi da una fase in cui mangi a mantenimento calorico se non anche in deficit e mangi di più accumulerai per forza di cose anche più glicogeno più carboidrati che sono importantissimi in una fase di massa e quindi vedrai un aumento di peso che è anche importante non preoccuparti se all'inizio aumenti di peso di un chilo due chili in poco tempo anche in una settimana due perché quello all'inizio è acqua e glicogeno dopodiché dopo che il peso lì si è assestato al che il peso come aumento non deve essere superiore a 0-2 chili a settimana o meglio 0-8 chili un chilo al mese se sei intermedio al che però lì se sei come dicevo prima principiante che hai meno di un anno di esperienza costante nell'allenamento in palestra quello che è lì puoi spingerti anche verso mezzo chilo a settimana quindi un chilo e mezzo due chili al mese e giù di lì principiante chi è più avanzato chi ha più di 3-5-6 anni costanti fatti bene in palestra o comunque per quello che considera nell'allenamento quindi è molto si è già bene adattato agli stimoli deve stare attento a non andare troppo in surplus calorico appunto perché potrebbe avventare più troppo peso che potrebbe essere la massa grasse quindi lì l'aumento di peso come massa magra sarà molto molto più risicato quindi lì bisogna veramente dedicare davanti molti anni per vedere anche un chilo di massa magra in più dipende un po' anche dal vostro grado di esperienza diciamo quindi il beginner è più predisposto ad aumentare di massa magra velocemente intermedio un po' meno l'avanzato deve farsi veramente il triplo del culo per avere un terzo del risultato del principiante quindi cerchiamo un po' di declinare un po' i concetti anche in base a livelli di esperienza delle persone però che di base surplus 10% in più e da lì monitorarsi in base appunto al range ottimale di aumento di peso a livello settimanale mensile e poi di conseguenza andare a gestire a modificare a modulare l'introdotto calorico appunto in base a questo aumento di peso qua perché appunto se tu nel mese metti su 2 kg e vedi che ti stai appannando anche allo specchio con le misure quello che dicono le misure sono quello è quello è ciò che è reale quindi vedi che c'è troppo aumento di peso al che vai in un leggero non dico deficit però comunque cerca di modulare un po' le calorie in negativo così che compensi un po' al tutto perché al fine ciò che fai è ciò che è importante è appunto il lungo periodo e quindi se tu in un mese metti troppo peso su e quindi vedi che ti appanni troppo nessun problema nella prossima settimana vai in un minimo deficit così che compensi il surplus iniziale con un deficit che appunto fa sì che tu torni a regime allora ci puoi inviare il link al tuo canale youtube allora il canale youtube si chiama guida fitness vincente come qua sulla pagina fan per il link guarda te lo invio adesso appena lo trovo allora eccoci ragazzi avete domande su questa cosa che ho appena detto sul surplus su vari falsi miti volete chiarimenti qualcosa da sapere che intanto che trovo il link di youtube che ve lo condivido qua nei commenti fatemi un po' di domande così che ho anche io stimoli da parte vostra per addentrarmi approfondire gli argomenti che sto trattando in questo momento e ok dovrebbe essere questo domande ragazzi domande tutto chiaro fino adesso ok vi ho messo qua ragazzi nei commenti il link al canale che dovrebbe andare in teoria non so se da qua si vede sì dovrebbe andare sì io ve l'ho messo poi se non lo trovate se non va al link guida finanza vicente e lo trovate come ragazzi tutto chiaro fino adesso fino a questo momento tutto chiaro come argomenti di alimentazione surplus self monitoring monitoraggio del peso aumento di peso tutto chiaro fino adesso fatemi sapere che se no chiarisco meglio e laddove ci siano dubbi ve li approfondisco fatemi sapere un po' se avete domande se no vado avanti tranquillamente con altri argomenti che sono veramente tanti e molto da approfondire tutto chiaro vediamo quasi qua sul gruppo ci sono domande 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 allora allora bene vedo un po' di mi piace bene ragazzi mi piace condividete questa live qua che è importante bene 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 posso andare avanti fatemi sapere se posso andare avanti ok ok non vedo domande per adesso credo perché a volte me ne scappano un po' di domande che qua dal mobile non le vedo ma lì le vedo perché magari quando le legge tutte non so perché ma facebook dà un po' di problemi vabbè comunque andiamo avanti ah no ecco esempio pratico sul come impostare questo surplus allora di base facciamo un esempio qua pratico allora esempio su un uomo un ragazzo quello che è di come me 70 kg per calcolare il surplus prima è da calcolare il nostro TDE quindi il mantenimento calorico quindi ciò che noi bruciamo nel giorno a mantenimento quindi TDEE uguale 70 kg peso corporeo per 2,2 che è un coefficiente standard che è una misura di kg che fa diventare il libre per più o meno in media 1,5 appunto per uno stedio di vita normale non troppo attivo non troppo passivo nella media mantenimento sarà più o meno 2350 calorie ok a questo ok applicare un surplus in fase di massa pulita di un 10% in più quindi vuol dire 2350 più 235 che è un 10% in più quindi vuol dire 2585 questo per me nel mio caso poi fatele voi il vostro caso mettendo appunto il vostro peso corporeo e calcolate tutto in base a questo e il mio surplus ottimale si aggira intorno a un 2585 rispetto a un 2350 di mantenimento quindi questo per me è il surplus teoricamente ideale poi anche lì se mi metto a fare più cardio più attività più passi al giorno sono più attivo al che questo modore qua deve essere ovviamente aumentato in modo corrispettivo in modo proporzionale però comunque in media è questo fatevelo per voi questo si calola appunto il bilancio il surplus calorico corretto per voi ecco poi in base a questo vedo un po' faccio un test di 7 14 20 giorni per vedere un po' il mio peso corporeo come varia all'introito di queste calorie qua se vedo che il peso varia di 1 0,2 settimana che aumenta di 0,2 settimana è perfetto se vedo che il peso è costante non aumenta allora il che è importante andare ad aumentare questo valore qua di 100 150 calorie in media settimanale se vedo che il peso diminuisce che aumenta in modo più importante questo apporto calore qua quindi ragazzi non prendete mai i numeri le formule magiche per calcolare il vostro TDE le cose così alla lettera che è così e basta andate sempre a testare ciò che viene fuori per voi perché per conto che alcune formule possono essere imprecise oppure non ce le attano a voi oppure avete uno servito molto più importante rispetto a quello che nella formula avete segnato è un po' un casino quindi prendetelo e testatelo se obiettivo massa deve aumentare il peso di 0,2 ne aumenta di 0,5 allora questo qua è da tenere un po' più sotto occhio da regolare il negativo per essere più più corretto altrimenti il rischio è quello appunto di andare a mettere troppo massa magra in fase di costruzione ed è un problema appunto perché alla lunga può essere d'ostacolo alla vostra crescita questo per quanto riguarda il surplus ora a livello andiamo a parlare un po' di macronutrienti quindi come impostare i macronutrienti in una fase di massa quindi quanti carboidrati quante proteine quanti grassi mangiare in modo personalizzato con formule e basi scientifiche allora in primis è da calcolare l'apporto proteico è importantissimo allora distinzione tra fase di massa e definizione l'apporto proteico è quello che varia maggiormente perché in fase di definizione quindi di deficit calorico deve essere maggiore l'apporto proteico appunto per far fronte al catabolismo potenziale della massa magra in fase di massa di costruzione in modo controintuitivo l'apporto proteico deve essere più inferiore quindi dico controintuitivo appunto perché tu dici in fase di massa mi serve più proteine appunto perché devo costruire non è proprio così perché l'apporto proteico è di importanza inferiore leggermente rispetto a quello dei carboidrati che in fase di massa sono fondamentali perché appunto veicolano in modo più efficiente e migliore la sintesi proteica quindi apporto proteico in fase di massa deve essere peso corporeo quindi per me 70 kg in fase di surplus calorico deve essere per un coefficiente di 1,5 e se hai difficoltà mentre su massa anche fino a un 1,8 quindi nel mio caso che più di 70 kg sarà intorno a un allora mettiamo un 120 grammi di proteine in fase di costruzione muscolare quindi 70 per 1,5 tipo 1,8 viene questo olore qua e questo è l'apporto proteico poi si va all'apporto di grassi che come standard sia in definizione sia in massa non devono mai essere inferiori in media a peso corporeo 70 kg per 0,8 che nel mio caso per esempio sarà più o meno 60 grammi di grassi in media 55 60 quello che è come ultima cosa per differenza si va a calcolare l'apporto di grammi di carboidrati importantissimo ora come si fa? sapendo che un grammo di proteine porta 4 calorie e un grammo di grassi porta 9 calorie si fa così si fa 120 per 4 480 60 per 9 540 quindi io qua non ho calcolato quindi mi serve sapere quanto fa comunque più o meno quindi 480 1000 fai 1000 fai 2585 che è il nostro sottoscalorico corretto per me per il mio caso meno 1000 fa 1585 questo valore qua come differenza si fa diviso 4 quindi fai 1600 diviso 4 fa 400 in media quindi carboidrati per differenza sarà per me 400 grammi non faccio fare non mi faccio non mi stavo qua sotto in lavagnetta tutte le formule della differenza l'equazione e cose così che è troppo complicato troppo confusione qua se non hai capito riascolta questo pezzo di video che è importantissimo per sapere come calcolare per differenza l'apporto di carboidrati sapendo l'apporto di proteine e grassi quindi per il mio caso avendo questo surplus ok surplus questo qua per me è corretto poi anche lì da testare apporto proteico peso per 1.5 1.8 viene questo grassi peso corporeo per 0.8 viene questo per differenza sapendo che questo qua viene per 9 calorie 504 calorie e 120 per 4 che viene 480 li sommi li sottrai a questo valore qua fai il valore che viene fuori diviso 4 perché il carbo come la proteina porta 4 calorie per grammo e trovi per differenza quindi i carboidrati come grammi quindi per me che peso 70 kg in fase di massa devo assumere queste calorie questi grammi di proteine questi grammi di grassi e questi grammi di carboidrati li testo per 7 14 20 giorni vedo un po' il peso come varia dove questo peso qua lo metto a livello di misure corporee e vedo un po' come appunto procede e di conseguenza vado a modulare l'apporto calorico proteico di grassi i carboidrati andando sempre a testarli facendo sì che l'aumento mio di peso non sia superiore a 0.8 1 chilo al mese importantissimo e questo anche per i macros è quanto esempio pratico concreto se non hai ancora capito arriva indietro al video appena lo pubblico riascoltalo riguardo che è importantissimo farlo sulla tua base sul tuo peso corporeo e sui tuoi parametri per sempre personalizzarlo e testarlo di conseguenza poi nel percorso di coaching lo testo io per voi ci penso io a fare tutti i calcoli scomodi stressanti e testare nel tempo per voi solo il percorso di coaching che vi lascio il link per candidarsi per il coaching qui in descrizione e questo è quanto ora a livello di integrazione importante o meglio meno importante di allenamento alimentazione però ecco l'integrazione quali sono gli integratori che io personalmente consiglio sconsiglio quali prendere quali non prendere come assumerli e così via allora in fase di di massa diciamo che di integratori veramente essenziali ce ne sono veramente molto pochi però alcuni di questi che posso consigliarvi sono sono praticamente sicuramente la creatina perché la creatina è uno tra i pochissimi integratori che è scientificamente provato che dia risultati che porti un miglioramento delle performance appunto perché vabbè cose un po' troppo tecniche magari la fosfo creatina genera creatina che da energia può essere può spingere puoi spingere più l'energia quindi avere uno stimolo maggiore a livello di allenamento però sappiate che in modo semplice la creatina può essere più utile appunto per rendere di più a livello di forza espressa in palestra essendo che lo stimolo che avrete in palestra o comunque l'allenamento in questo periodo qua a casa sarà maggiore al che il vostro corpo che è uno specchio perfetto di ciò che voi fate come stimolo rispecchierà perfettamente il vostro lo stimolo che avete fornito quindi più è lo stimolo e più sarà il vostro risultato di conseguenza sempre e solo se il surplus sarà creato in modo corretto come adesso abbiamo appena visto quindi sicuramente la creatina può andare bene anche lì se avete soldi se non sono un problema se è tutto a posto e ne avete un po' da investirne per il vostro risultato perché la creatina ci può stare va bene ci sta discorso diverso invece ragazzi per quanto riguarda gli aminoacidi cioè BCAA e cose varie perché aminoacidi allora non esiste alcuna ricerca scientifica studio fatto che dimostri che gli aminoacidi ramificati essenziali sono importanti e diano risultati appunto perché è evidente dall'ultima ricerca scientifica di fatti l'anno scorso e quest'anno qua anche nuovo risulta che l'aminoacido BCAA sia pillole polvere quello che è è prettamente ragazzi ve lo dico un effetto placebo quindi è il fatto che voi pensiate credete che faccia effetto che ve lo fa fare ma non perché in sé l'aminoacido fa il suo effetto concretamente in modo scientifico ma perché voi credete guardate un po' come la mente è potente il fatto che crediate che il BCAA vi porti un miglioramento ve lo fa ottenere quindi ragazzi anche senza l'aminoacido se avete quel focus mentale quell'effort da dare e quella motivazione quel giusto scientifico programma da seguire otterrete gli stessi risultati anche senza il BCAA non fa alcuna differenza se credete che vi fa bene prendetelo se avete solo da spendere prendetelo ma non è quello che fa la differenza non ha alcun effetto provato evidente tranquilli ragazzi BCAA non serve tra tutti c'è il 2-1-1 c'è il 4-1-1 c'è l'8-1-1 tra tutti il migliore come rapporto di aminorazioni essenziali è il 2-1-1 anche lì non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano il fatto che dia risultati che aumenti il recupero che diminuisca la fatica e cose perché non è vero o meglio avviene nel breve periodo ma non nel lungo quindi è inutile farlo se avete soldi in più va bene se credete che va bene va bene prendetelo non è un problema ascoltate loro non ascoltate me tranquilli però questo è quello che dice la scienza non lo dico io se era evidente che dia risultati ve lo direi anch'io vi rendrei anch'io le informazioni che dia più risultati però non è così quindi non posso dire però mi sembra chiaro altri integratori allora i pre-workout per avere un migliore focus mentale preparazione concentrazione e maggiore energia da sprigionare nel workout pre-workout va benissimo sicuramente poi c'è ecco un altro che può anche essere utile è la betalanina appunto perché va a diminuire la fatica percepita durante l'allenamento vi porta quindi a ecco allontana un po' l'effetto dell'acido natico che appunto va a ostacolare una maggiore un maggiore effort muscolare nell'esercizio quindi può farvi farvi fare un maggiore volume allenante e quindi avere uno stimolo maggiore in palestra nell'allenamento quindi la betalanina può andare bene se presenta le donne giuste a giusta frequenza e così via altri integratori utili oltre a questi non mi sentirei in grado di dire però appunto perché non ci sono evidenze che dicono che altri oltre la creatina e betalanina e pochi altri dai risultati per quanto riguarda il concetto di proteine in polvere come ho detto all'inizio video attenzione se avete carenze va benissimo se per voi più comodo durante la giornata avete una vita un po' frenetica piena di impegni non avete tempo di fare i pasti anche integratori proteine che fa fronte alla mancanza di un pasto di proteico fatto bene ci può stare appunto perché sei in carenza e compensi ciò che non prendi col cibo naturale carne, pesce e così via compensi con lo shaker proteico va benissimo in quel coso lì però se tu raggiungi col cibo normale la porto per te proteico questo qua giusto per te potete in polvere ragazzi lasciatele non comprate perché sono solo soldi sprecati tranquilli che non è non è quello che vi farà fare il salto di qualità poco ma sicuro altri integratori che posso dirvi che posso consigliarvi non non ne vedo Riccardo Coni dice cosa ne pensi del Tribulus Tribulus non lo conosco non lo conosco era una marca non lo so non mi suona nuova cosa in particolare che non conosco onestamente altri integratori utili ragazzi questi qua il pre-workout va bene la caffeina per un maggior focus va bene beta-valina per allontanare la fatica e fare un maggiore volume allenante durante il workout va benissimo la creatina per un maggiore espressione di forza quindi maggiore input muscolare nell'allenamento va benissimo perché appunto vi fa produrre più ATP e quindi vi fa sprigionare più energia quindi più input allenante per voi quindi di conseguenza anche più risultato ma altri integratori utili ragazzi lasciate perdere BCA è il primo che vi sconsiglio di prendere ragazzi attenzione non fatevi ingannare dal marketing fatto dalle aziende farmaceutiche dall'azienda di integratore attenzione non va bene poi anche gli integratori che vanno verso ecco omega 3 o altre cose vitamine minerali antiossidanti e che di cui siete in carenza al che lì va benissimo integrarle sicuramente però previa visita medica è previo diagnosi da parte di un dottore specializzato di una carenza evidente al che l'integrate il ferro quello che è di cui siete carenti se non siete carenti è inutile prendere l'integratore che sperate faccia la magia che gli faccia fare il salto di qualità che non è così ragazzi non è così quindi attenzione quindi si riapitolando che mi consiglio di mi consiglio di di provare sono la creatina in fase di carenza per tenere in polvere va bene no bca preurocato va bene ma altro direi di no penso sia tutto effetto procevotrano e creatina e di base di base si poi odio io non faccio mai discutere un fascio però ecco la creatina è quello che è il più evidente che porta più risultati ed è scientificamente provato che è veramente efficace e porti un surplus della performance quello sicuro gli altri ne ecco se sono integratori per la salute quelli che volete se siete in carenza prenderli che per la salute è veramente molto importante ma altri cioè una cosa che vedo veramente in modo imbarazzante in palestra è appunto l'ossessione di prendere in tempo gli amminosci drammificati bca prima e post workout perché se no è un casino il catabolizzo alcuni prendono anche intra workout durante perché se no nel mentre se per un momento di troppo tempo allora catabolizzano troppo non vuol dire un cazzo questo qua si chiama scienza da bro il bro è quel tipo di è un argomento in palestra che fa il grosso che si fa il finto esperto solo perché è grosso ma non ha nessuna conoscenza e competenza scientifica del fitness e del bodybuilding quindi lasciate perdere e questo per gli integratori ultimo argomento per quanto riguarda questa fase di massa qua come impostarle su di tutto ecco il cosa fare come prevenzione o meglio come come correzione di tiro quando tu in fase di massa hai creato un surplus corretto fai tutte le cose fatte veramente bene ma nel lungo periodo cosa succede magari può essere che nel corso dei mesi 3, 4, 5, 6 mesi c'è il rischio di accumulare sicuramente un minimo di massa grassa nel processo è inevitabile anche con un percorso fatto veramente in modo ottimale fatto da dio sia per alimentazione allenamento e così via attenzione all'aumento di massa grassa ma che sarà inevitabile perché ovviamente il surplus che voi create va a finire o nella dipocita mazza grassa o nelle miocita massa magra muscolo e nessuno al mondo ha una ripartizione dei nutrienti del surplus calorico perfetta verso il miocita appunto perché il surplus verrà splittato in base anche al vostro allenamento come sarà impostato fatto nel corso del lungo periodo il surplus andrà verterà verso entrambe le parti se il vostro allenamento è fatto veramente molto bene sarà più nella miocita che nella dipocita se il vostro allenamento non rispecchia certi parametri che per poco vi dirò c'è il rischio che nel lungo periodo il surplus vada a finire prettamente in modo più importante nella dipocita nella massa grassa e quindi lì è un problema quindi cosa fare quando si crea un eccessivo accumulo di massa grassa nel processo l'importante è correggere il tiro cioè se notate che nel lungo periodo nel corso dei mesi il vostro aumento di peso va oltre il chilo al mese per un intermedio come esperienza conviene fare periodi di mini cut piccola parentesi faccio un piccolo escurso su quello che è l'allenamento migliore da fare in fase di massa quindi i principi card ne ho da da tenere e alla fine come ultima istanza vedremo anche come fare appunto a correggere il tiro e a ridurre i danni di un processo di massa troppo spinto che vi ho fatto appunto mettere troppa massa grassa nel processo quindi vedete che siete troppo appannati la donna va via e così via però prima cosa allenamento come deve essere fatto l'allenamento ottimale perfetto scientifico per costruire massa nel migliore dei modi i principi sono gli stessi di sempre che valgono sia in fase di massa sia in fase di definizione e di agrimento che sono principio di multifrequenza quindi a parità di volume muscolare volume allenante intensità intensità allenante densità e altri parametri deve essere splittato in più sedute a settimana è inutile condensare tutto il volume tutto il vostro allenamento di un gruppo muscolare in un unico giorno ma quel gruppo muscolare lì il petto per esempio allenatelo non solo tutte le 25 serie del lunedì ma splittate quelle serie lì quel volume quell'intensità tutti quei parametri lì per più sedute più volte a settimana multifrequenza con richiami importante perché il rendimento nel corso della settimana sarà ovviamente maggiore quindi primis multifrequenza seconda cosa importantissima è il principio fondamentale del progressive overload sovraccarico progressivo non lo smettrò mai di dire cioè è quel principio che vi prendete appunto di applicare una progressione dei parametri allenanti che sia una progressione in termini di volume quindi aumentare il lavoro fatto in termini di una serie in più un maggiore volume quindi vuol dire più serie più ripetizioni oppure un migliore un incremento in termini di intensità di carico quindi aumentare il peso nell'arco del breve medio-lungo periodo aumentare la densità allenante quindi a parità di volume intensità farla in meno tempo con pause più brevi diminuire le pause è anche un altro concetto di progressive overload oppure entrare in circuiti se avete un limite di tempo nei circuiti fate più circuiti più giri di circuito in meno tempo e così via oppure time under tension quindi a parità di volume intensità densità e pause fatte potete fare tutto con un'esecuzione di ripetizione più lenta quindi maggiore sforzo percepito quindi di base progressione dei parametri allenanti nel tempo se non c'è questo ragazzi se voi create un surplus ma non c'è il principio del progressive overload ragazzi ve lo dico subito fallirete in partenza appunto per quel surplus se il corpo non ha uno stimolo e il muscolo non ha uno stimolo per crescere non il muscolo non sarà in grado di percepire e recepire quel surplus di calorie e nutrienti che farà vertere nel mio cita ma per contro se non c'è il progressive overload più scuridante nel tempo il surplus e i nutrienti andranno ripartiti verso invece la dipocita che è ciò che noi non vogliamo quindi è importantissimo l'alimentazione nella fase di massa ma è altrettanto se non anche più importante l'aspetto dell'allenamento e del progressive overload fatto in multifrequenza che renderà appunto il vostro alimento nel tempo più sfidante quindi migliorerà la vostra ripartizione di calorie e nutrienti verso il muscolo che crescerà e non verso il grasso che sarà comunque un minimo ci sarà ma comunque sarà molto più inferiore rispetto alle cose fatte bene se le fate bene ovviamente però come prima ho detto nessuno al mondo con le cose fatte in modo perfetto sia allenamento come prima abbiamo visto adesso sia alimentazione con i giusti calcoli con i giusti test e tutte le cose nessuno ha una ripartizione perfetta verso esclusivamente il miocita verso il muscolo un minimo di ripartizione di nutrienti andrà verso anche l'adipocita quindi nel processo nel corso dei mesi chiunque tenderà a mettere ad appannarsi un po' a sporcarsi un po' e a mettere quindi di conseguenza un minimo apporto di massa grassa nell'adipocita quindi ingrasserà è per forza così per minimizzare i danni conviene fare ciò che ho detto a livello di calcoli di alimentazione di come strutturare il vostro rapporto calorico proteico di grassi di carboidrati e monitorarvi allenarsi in multifrequenza e con un principio di progressi over load nel tempo fatto in modo consono al vostro potenziale alle vostre tendenze e altre cose ma se vi accorgete che avete fatto il danno e siete troppo sforati nel peso corporeo e vedete che siete troppo appannati dopo più o meno 5-6-8 mesi di massa inoltrata conviene in percentuali di grasso superiori a un 15% 16-17 conviene per forza di cosa ragazzi fare un mini cut questo perché perché un surplus calorico in fase di massa protratto per troppo tempo scatolerà in una vostra resistenza insulinica allora farò un video a parte su questo momento qua che è veramente molto importante non capito non detto quasi da nessuno però è fondamentale ed è il principale motivo per cui le persone in fase di massa tendono a stallare a vedere sempre più di versi sempre più grassi e non muscolose e di base sappiate che nel lungo periodo con un surplus calorico andate a intasare le vostre vie energetiche quindi il vostro surplus calorico andrà sempre di più verso il grasso quindi se voi avete muscolo e grasso in fase di massa se il grasso aumenta ok i vostri nutrienti e il surplus calorico andrà sempre verso la parte di massa più abbondante con le vie energetiche più più libere in questo caso qua il grasso quindi ecco di base il concetto è più grasso hai e più il surplus finirà verso quella parte di massa che sarà abbondante con le vie più allenate quindi più nutriente grasso dai al muscolo se non te l'anni bene ha ancora maggior ragione e più tenderai a ingrassare e ciò che è il surplus non andrà più o quasi verso il muscolo quindi con massa di grasso maggiore di un 15% di massa grassa corporea conviene fare dei periodi di mini cut quindi intervallare quei 4, 5, 6 mesi 8 mesi di massa a periodi di 2, 3 settimane 4 settimane 6 settimane di mini cut periodi in cui vai appunto in deficit di calore quindi con il deficit tu vai a ripulire un po' queste vie energetiche quindi aumenterai la tua sensibilità insulinica quindi abbasserai di conseguenza la tua resistenza all'insulina e quindi favorirai in modo migliore con un deficit corretto come se fosse in definizione una migliore ripartizione dei nutrienti che andranno più che altro dopo un periodo fatto bene di mini cut nella tua massa magra ad arimentare quindi il muscolo quindi questo è quello che è da fare molto importante per evitare di sporcarsi troppo quindi anche lì ecco se voi notate che in 5-6 mesi non siete ancora troppo non siete oltre i 15% di massa grassa ragazzi continuate con il surf plus in fase di massa fate tutte le cose fatte bene tranquilli così qua si è bloccata un po' la live che mi dà la connessione debole vabbè ci siamo comunque se però dopo diverso tempo siete troppo sporchi troppo pannati mini cut per forza di cose è obbligatorio ecco poi un parametro utile per farvi sapere capire che state comunque in fase di massa progredendo in modo corretto è il miglioramento delle performance quindi se le vostre performance in palestra e in allenamento stanno migliorando è un ottimo indicatore che appunto vi dice che state migliorando e la massa magra sta aumentando se però vedete che siete in uno stallo l'allenamento in palestra non rende bene non dà i frutti non state migliorando siete in surplus come sempre come giustamente che sia attenzione che se non migliorate in palestra tutto il surplus che avete andrà verso la parte di massa grassa quindi attenzione a non sporcarvi troppo se vi sporcate mini cut andate in deficit quindi andate a un 20% 15% in meno rispetto al fabbisogno calorico giornaliero che avete come individuo e protraetelo per 2 3 4 6 settimane massimo cosicché tornerete a condizioni standard di ripartizione di nutrienti e rifavorirete in un altro periodo successivo una nuova fase di massa con una BF più bassa e maggiore sensibilità insulinica questo è importante capire poi farò anche video a parte in modo più dettagliato in argomenti legati a resistenza sensibilità insulinica a come fare un mini cut fatto bene ma poi sono argomenti di altre live che verranno a breve in altri video che verranno a breve sia qua sia anche su youtube vi ricordo come sempre di lasciare un like condividere la live e soprattutto in questo momento qua importante youtube è nuovo andate iscrivetevi guida fitness vincente vi ho anche messo il link qua nei commenti non so dove ma dovrei averlo messo guida fitness vincente su youtube iscrivetevi campanellina per le notifiche e andate e istruitevi con la scienza del fitness e del bodybuilding importantissimo allora ragazzi avete domande su questo argomento qua che io per oggi direi che ho finito se avete domande vi rispondo tranquillamente se non avete ci salutiamo e ci vediamo alla prossima live quindi fatemi un po' qualche domanda interessante da trattare ad approfondire così che sia uno stimolo parto e vi inondo di conoscenza di competenza di sapere a voi utile per strutturare la vostra fase di massa fatta bene senza ingrassare o qualsiasi altra cosa che voi vogliate e fatemi sapere io intanto bevo un attimino e ditemi un po' se tutto è chiaro se volete che approfondisca un po' un certo argomento una certa declinazione di qualcosa fatemi sempre un po' qua nei commenti con domande a cui vorrete che io risponda vediamo un po' se questo gruppo ci sono domande domande ragazzi domande se no ci salutiamo che ho un sacco di lavoro da fare ragazzi figa perché qua sono veramente molto stanco sono stanchissimo sono un sacco di cose da fare programmi tra clienti nuovi attivi clienti che arrivano clienti vecchi che rinnovi veramente un periodo denso di lavoro però siamo qua ragazzi ci siamo tutti chiaro domande 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 sì no adesso 15 quindi siamo un'ora e 5 di live no direi che per oggi è quanto io devo andare vi lascio qui e ragazzi come sempre vi ricordo che vi lascio sempre qui in descrizione qui sopra non so dove sia sia su facebook sia su youtube link per quanto riguarda candidatura per il coaching per un percorso di coaching in miglioramento fisico con me a saluto contatto e anche link per quanto riguarda prenotare una consulenza telefonica gratuita con il nostro coach per avere appunto maggiore informazioni sul coaching consulenze e cose varie a titolo totalmente telefonata totalmente gratuita con il nostro coach di fiducia io ragazzi non faccio più consulenza non faccio più coaching ci pensano tutti i miei coach di fiducia che sto formando in questo prodotto o anche quelli vecchi che sono comunque sempre fideli in guida fitness vicente io non ho tempo di fare consulenza e fare cose perché veramente devo pensare a mettere il focus sui clienti attivi quindi se volete fare consulenza ci sono i miei coach candidati link in descrizione candidati compilate il modulo di candidatura inviatelo e se sarete idonei in linea con il nostro con il nostro brand che avrete le vostre consulenze quando desiderate e quindi sì link candidatura modulo a compilare inviatelo e eventualmente vi contatteremo e se sarete in target e link per la candidatura gratuita come consulenza con il nostro coach di fiducia questo è quanto e direi che si è fatta una ricerca una certa io devo lavorare noi ragazzi ci vediamo a una prossima live un prossimo video quello che sarà sia su facebook che anche su youtube mi raccomando andate su youtube questo è quanto e noi ragazzi buona serata ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi